Per il nostro corso gratuito www.mesmerism.info E se c'è il manettino e si è bravo, utilizzalo Ma come fanno quelli duri? Si va a smanettare col manettino su CST Non c'è più CST CST non c'è più Ci ha lasciato Secondo te sto male Ma viva la vita Death con uno CST non c'è più Bella per te Viva la life Secondo te sto male CST ci ha lasciato Ci mancherai CST non c'è più CST non c'è più